Pescara Luciano D'Alfonso traccia un bilancio di questo anno di governo per i 5 stelle, come è stato? È un bilancio impassivo, se vogliamo usare questa metafora. Per noi il presidente D'Alfonso, alla luce di tutte le promesse che aveva fatto agli abruzzesi l'anno scorso in campagna elettorale, ad oggi, a un anno dal suo insediamento, non ha fatto nulla se non distruggere e cominciare, diciamo così, a distruggere pezzo per pezzo l'Abruzzo. Pensiamo alla sanità, invece di tagliare gli sprechi, sono stati chiusi e saranno chiusi presto i punti nascita. L'azienda unica di trasporti senza tutele, è stata fatta effettivamente un'azienda unica senza tutele per i lavoratori, per cui noi non vediamo veramente alcuna scelta fatta soltanto nell'interesse dei cittadini. C'è il vostro progetto di legge molto importante sulla riduzione dell'indenità a consiglieri e assessori, se ne parlerà al prossimo Consiglio regionale? Sì, abbiamo dovuto chiedere che venisse calendarizzata direttamente in Consiglio, perché in Commissione, stante le assenze di tutta la maggioranza o del Presidente D'Alfonso, che era stato invitato in audizione, insomma non se ne è potuto discutere, il testo non è stato licenziato, per cui andrà in discussione in Consiglio il 14 luglio, che tra l'altro è una data evocativa, perché è la presa della Bastiglia e anche, mi ha ricordato un vostro collega, la data dell'arresto di Del Turco.